eccoci qua riuniti con alcuni dei docenti del del corso i volti ignorati del femminino e non sono tutti perché abbiamo avuto due defezioni dell'ultimo nel del penultimo minuto non ci sono paolo ribelli non ci sono alessandro nardin ai quali però ho fatto registrare un piccolo contributo video in modo tale da poterlo condividere questa sera stasera con voi al posto della loro della loro presentazione in diretta quindi siamo qua con i docenti di aretusa academy che parteciperanno a questa rassegna di corsi sono sette lezioni è un corso grande dedicato al femminino e sono sette lezioni in cui interverranno sette docenti differenti una lezione per ogni docente sono i docenti di aretusa academy che stanno lavorando principalmente quest'anno mi sono state mi è stato contestato il fatto che la maggior parte del dei docenti di un corso dedicato al femminino fossero fossero uomini fossero maschi e è stata una contestazione anche abbastanza accesa che ha sviluppato un dibattito anche molto interessante sono venute fuori delle delle posizioni che a me anche da da papà di una figlia femmina sono sono assolutamente utili come come confronto come scontro come come correzione delle del mio punto di vista ogni tanto attraverso l'individuazione anche del punto di vista altrui sempre cose molto molto interessanti e comunque la motivazione per cui a tenere questi questi corsi sei di questi sette insegnanti sono uomini è semplicemente per il fatto che quest'anno è capitato che la maggior parte del dei docenti di aretusa academy fossero uomini e a loro io ho chiesto di tenere questi corsi non per piageri o per qualche cosa ma perché mi sono svegliato l'idea di questo di questo corso mi è venuta una settimana fa più o meno ho passato l'intera giornata al telefono ho iniziato a chiamare alessandro nardin irene al mattino mentre ero in stazione con il tele che mi passava nel delirio più totale ho messo su una roba del genere in mezza giornata più una settimana di delirio di delirio organizzativo e ho detto boh questa è la situazione quest'anno faccio faccio il fuoco con la legna che ho ho questi insegnanti ognuno di loro padroneggia un determinato argomento è competente in un determinato argomento e quindi in carico lui o lei di tenere un corso una lezione da due ore sul determinato che appunto padroneggia e allora adesso inizierei a dare la parola visto che siamo abbastanza abbastanza tanti a un certo punto interverrà anche massimo centini allora poi qua in video abbiamo irene zanier che terrà la prima lezione la seconda lezione la terra massimo centini che però arriva più tardi io manterei l'ordine più o meno delle delle lezioni per per tenerci per tenerci in riga quindi la prima di noi e irene zanier che farà la lezione proprio l'otto marzo io mi son dato un andi ho fatto così di fretta in organizzazione perché volevo partire per l'otto marzo con un corso sul femminino la prima lezione l'otto marzo la terra irene la seconda la terra massimo centini sono sette martedì consecutivi appunto massimo arriverà tra un attimo la terza la terra paolo riberi su maria maddalena con paolo riberi abbiamo registrato il video quindi manderò in onda il video poi c'è c'è fabrizio manticelli con un corso sulla magna mater che abbiamo qua presente c'è claudio marucchi e poi c'è morizio de michaelis scapin manderemo in dimenticavo dopo paolo riberi il 29 di marzo c'è alessandro nardin di cui manderemo manderemo il video quindi ci saranno due video consecutivi adesso fatto il cappello introduttivo vedo che c'è anche già un pochettino di gente collegata siamo sia su youtube che su facebook cercheremo di rimanere sotto i 60 minuti e 00 per poter poi condividere il video così com'è anche su anche su instagram senza dover far tagli pasticci paciughi vario strani e passerei la palla a Irene Zagner adesso la faccio diventare anche grandissima è al centro del del nostro video layout individuale ecco Tirene raccontaci del tuo corso ciao Igor ciao a tutti allora io porterò l'argomento astrologico quindi porterò il lato notturno del femminile dal punto di vista appunto astrologico perché un tema così specifico perché dovete sapere che non esistono discriminazioni all'interno del tema natale quindi non ci sono pianeti del femminile e pianeti del maschile questa è una visione molto molto antica e il modo in cui vengono descritti i pianeti come maschili e femminili è legato a quella che è la qualità appunto dei pianeti e non tanto al genere che appartiene alle persone motivo per cui non aveva senso portare il solito luna venere associandola appunto al femminile anche perché ehm noi viviamo tutti i pianeti del tema natale motivo per cui ho pensato potesse essere interessante invece affrontare tutti quelli che sono i punti d'ombra e i punti nascosti appunto del all'interno del tema natale come può essere ad esempio alcuni simboli alcuni elementi astrologici come la famosa Lilith ad esempio eh che nel tema natale in realtà noi vediamo in due diversi elementi di cui uno è rappresentato dall'apogeo lunare che è appunto questo eh punto fittizio calcolato e che parla di una rimozione e poi eh ho inserito anche gli asteroidi eh che portano eh per la maggior parte i nomi di dee tra cui appunto delle dee eh che la cultura diciamo ehm collettiva considera a torto o a ragione collegate appunto al lato notturno all'oscuro e mi riferisco appunto a Lilith come asteroide a Ecate a Persephone e a Neptis quindi andremo attraverso l'analisi astrologica a conoscere anche queste divinità e a vedere in che modo possono suggerire un'esplorazione del tema natale andando proprio a ripescare degli elementi che eh solitamente non non emergono quindi è un un percorso che ho pensato in questa maniera quando poi Igor mi ha proposto di pensare qualcosa io ho detto il femminile anche il femminile eh non manifesto il femminino non manifesto eh che è legato appunto alla scoperta ehm di quelle parti che sono anche mh state represse eh dal patriarcato e che noi possiamo vedere riflesse appunto in alcuni elementi che noi possiamo andare a ripescare. Pioniera di questo lavoro è stata la Demetra Giorgio che io porterò ovviamente come come fonte di 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 esplorazione quindi per chi si iscriverà mh ci sarà una trattazione anche inedita su alcuni asteroidi che non sono mai stati affrontati appunto Ecate, Persephone e Neptis. Quindi è questo. Bene, bene, bene. Irene come come sempre aspetta che usciamo dal layout individuale. Irene come sempre allora sappiamo che gli iscritti, gli appassionati di Aretusa Academy i tuoi corsi ci piacciono quindi sì 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 assolutamente. Allora adesso eh passo la parola allora eh visto che ci sono due eh consecutivi che dovrebbero di cui dovrei proiettare il video per non scassarmi di Zebedei eh ho deciso che che invertiamo un pochettino di ordini faccio partire adesso il video di Paolo Riberi e poi invece di mettervi il video di eh di Alessandro Nardin faccio parlare in mezzo Fabrizio e poi eh mettiamo Alessandro Nardin. Allora andiamo a proiettare il video che abbiamo registrato con Paolo Riberi venerdì e buon ascolto eccoci qui qui è venerdì pomeriggio siamo insieme a Paolo Riberi abbiamo registrato questo questo video invece di farlo in diretta perché Paolo ha un impegno a quest'ora in questo momento nel futuro in cui vedremo questo video e quindi nel nello spazio di tempo nella parentesi di tempo che Paolo ha per parlare della della sua lezione su Maria Maddalena all'interno di questo di questo in questo corso appuntate sette lezioni con sette docenti differenti ehm chiederei a Paolo appunto di raccontarci due cose perché allora Paolo è ehm un autore è un filologo che ha scritto tutta quanto una serie di libri sull'ognosticismo in particolare ce n'è uno che da retusa ha avuto un successo enorme mi diceva Paolo che solo da retusa ha avuto il successo enorme vabbè ha avuto un successo discreto eh ovunque però sicuramente retusa è stato un polo molto molto importante ecco basta dire che io sono sei anni che sono qui e sono sei anni che Maria Maddalena alle Alpe è nella top ten e ci sono stati anche degli anni in cui è stato nella top five quindi cioè sì un un libro che il pubblico di a retusa ha apprezzato particolarmente in realtà eh a dirla tutta questa questa idea del corso da fare eh del corso sui incontri da fare eh in occasione dell'otto marzo su argomento femminile è nata da te è nata da te Paolo che anni fa mi hai chiesto mi hai spinto mi hai forzato poi è arrivato il lockdown e quindi non eravamo riusciti a farlo però quest'anno in ottemperanzo la tua richiesta di anni or sono siamo siamo qui e lo stiamo lo stiamo facendo quindi ti cedo la parola non ti interrompo più e ti dico voi in quattro minuti telegrafico raccontaci di questa lezione. Allora ne sono davvero entusiasta intanto che questo discorso sia andato in porto eh beh è una lezione che si inserisce in un percorso molto più vasto sul femminino sacro. In occasione del mio intervento metteremo a fuoco un momento particolare della storia che è l'epoca dei primi secoli cristiani. Andremo a vedere intanto come la donna era considerata dal mondo cristiano delle origini e poi per contrasto andremo a vedere come la donna era considerata nell'universo del cosiddetto gnosticismo o degli gnosticismi perché erano movimenti paralleli in realtà non organici non coordinati e non gerarchici. Sappiamo che in questi contesti c'erano donne che battezzavano, donne che amministravano i sacrimenti, donne sacerdotesse. Addirittura però abbiamo qualcosa in più. Abbiamo nella stessa costruzione sacra dell'ognosticismo una figura mitica, di mito storica in realtà, di fondatrice che è Maria Maddalena. Su Maria Maddalena sono stati scritti i proverbiali fiumi d'inchiostro. Era la compagna del Signore, era la moglie di Gesù, era una discepola, era una prostituta. Veramente è un mare magnum di informazioni. Nel corso del mio intervento, nell'ambito di questo corso proposto da Artus Academy, andremo a fare chiarezza. Andremo a fare chiarezza? Io non ho la pretesa di spiegarvi chi fosse Maria Maddalena. Quello che posso dirvi da storico è che cosa le fonti ci dicono su Maria Maddalena. Quindi andremo a aprire le testimonianze storiche e andremo a vedere come Maria Maddalena è rappresentata nel mondo cristiano e nel mondo gnostico. E questo sarà un'occasione per andare più a fondo sia sul ruolo della donna in entrambe le comunità, sia più in generale su come entrambe le comunità recepivano la figura del femminino, quindi della femminilità in senso ampio. Per i cristiani il divino è maschile, le figure di riferimento sono maschili, il Messia è maschile, gli apostoli sono figure maschili. Nell'agnosi le cose sono un po' diverse perché non c'è solo Maria Maddalena con una figura femminile, ma abbiamo anche una sorta di Messia femminile che è Sofia e abbiamo anche una figura divina femminile, abbiamo un volto femminile di Dio, abbiamo una grande madre. Ecco tutto questo cercheremo di farlo stare in due ore e di dare una panoramica storica su questo cristianesimo alternativo che si faceva discendere dall'insegnamento di Gesù e che per quanto ne sappiamo potrebbe essere il vero insegnamento di Gesù, visto che Gesù non ha lasciato nulla di scritto. Abbiamo due movimenti che si contendono l'eredità di Gesù. Sul tavolo ci sono tante cose, ma uno dei fattori di divisione principale è il ruolo della donna. La donna deve essere segregata, dice San Paolo, deve amministrare i sacramenti e deve avere un ruolo di leadership, dicono i testi gnostici. Maria Maddalena che figura era? Chi era? Cosa c'entra in tutto questo? Proveremo nell'arco della lezione a capirne di più e a capire cosa lega questo alla visione del divino. Divino che purtroppo è un, usiamo il maschile, ma in realtà è un neutro, del principio divino che può essere maschile o può essere femminile. Non ci deve stupire perché nel mondo greco figure femminili sono un bel po', nel corso del corso ci sentiranno veramente tutte le declinazioni del femminino. Quello che ritengo possa portare questa lezione come valore aggiunto è l'ambito giudaico-cristiano, perché l'ambito giudaico-cristiano è sempre stato ed è tuttora molto patriarcale e in una storia millenaria di patriarcato si apre una finestra legata al mondo femminile che dura 200 anni. Forse anche questo ha portato gli gnostici a sparire, erano scomodi, lo vedremo nel corso dell'incontro. Ti ringrazio tantissimo e per lo spazio e per l'occasione. Grazie mille a te Paolo, qui dal passato è tutto, ritorniamo nel futuro. A presto e grazie. Ciao. Eccoci qui, visto che adesso nel frattempo si è unito a noi anche Massimo Centini, che però io non capisco. Allora, aggiungi allo stile. Ecco Massimo. Perfetto, quindi siamo praticamente tutti quelli che sapevo che sarebbero arrivati prima o dopo alla spicciolata sono arrivati. Quindi adesso, prima di farvi sentire il video di Alessandro Nardin, permettiamo ancora Massimo di assestarsi un attimo prima di tirarlo in causa, passerei la parola a Fabrizio Manticelli, che ha appena finito un corso che ha avuto un successo enorme da D'Aretuso, un corso intitolato Architettura Sacra. Allora, la dico così, non immaginavo, non per Fabrizio, ma perché l'architettura sacra a D'Aretuso non me la fila mai nessuno. Di libri sull'architettura sacra vendo, vabbè, sì, Fulcanelli va bene, tutti gli anni ne vendo tanti, però vendo quei due o tre titoli dell'archeios sulla nascita delle cattedrali, sui simboli delle chiese medievali, ma basta, fai un totale Fulcanelli escluso di cinque libri all'anno sull'argomento, ho detto, boh, mi sa simpatico Fabrizio, voglio tirarlo dentro, glielo propongo, però non immagino che. E invece ci sono stati venti iscritti, quindi assolutamente, assolutamente, una bellissima esperienza, venti iscritti che erano tutti e venti molto contenti, quindi diciamola così. Fabrizio, ti passo la palla e ti chiedo di raccontare, ti metto in leg out individuale, così ci racconti e ci illumini. Vai. Certo. Beh, buonasera a tutte e buonasera a tutti. Io inizierei in questo modo. Sicuramente la donna ha un primato assoluto, troppo spesso dimenticato, e cioè che la prima immagine sacrale dell'umanità, del paleolitico e chissà forse anche in qualche epoca più remota, nell'immaginario spirituale, religioso, magico e poi esoterico, è una donna ed è un primato che non si può togliere, è un primato assoluto. Naturalmente poi per l'umanità di allora, con una natura così preponderante, una vegetazione o spontanea oppure anche coltivata, perché in effetti comincia l'agricoltura e poi anche l'allevamento, l'uomo diventa stanziale, il riferimento religioso principale è ovviamente legato alla grande madre, alla magna mater e non potrebbe essere altrimenti, perché in effetti è lei che vigila sul ciclo delle nascite, sulla crescita, sulla rigenerazione. In altre parole, se vogliamo fare i suoi fini e parlare un po' di latino, insomma, l'uomo sapiens diventa homo simbolicus et religiosus e magico grazie alla presenza della donna e all'archetipo della donna, perché nell'immaginario metafisico il femminino sacro diventa un archetipo. E questo in particolare riguarda soprattutto noi. Pensate un attimo, adesso voglio fare una osservazione antropologica, pensate a Maria Gimbutas, pensate agli indoeuropei, pensate praticamente al ciclo della vita secondo le popolazioni indoeuropee, alla ruota della vita e pensate a tutte queste immigrazioni che si sono svolte e verificate dal VII secolo a Venti Cristo in Italia, anche di popolazioni indoeuropei, che si sono stanziate proprio sulla penisola italiana e che molto spesso sono dimenticate e di questo mi preme di parlare. Certo la protagonista è la Terra, comunque in qualsiasi caso, intesa come madre divina, si può intendere in vari modi, come elemento sublunare, quindi da un punto di vista magico o gnostico, come diceva Paolo Iberi prima, facendo riferimento agli arconti oppure come forma di allergia tellurica, insomma come madre divina. Certo è che comunque la maternità, la gestazione diventano fenomeni magici, religiosi rappresentati dalla donna e anche dal punto di vista artistico, iconografico. Noi abbiamo tutta una serie di testimonianze, pensate alle classiche veneri del 10.000 e del 20.000 davanti Cristo che presentano una enfatizzazione dei caratteri femminili. Ma nel corso io volevo sottolineare alcune cose. Ma finché si parla di civiltà minoica, il ruolo della donna, per carità, non voglio dire che quella civiltà fosse matriarcale, ma comunque nella civiltà cicladica e quella dei pelaggi si può parlare effettivamente di una società matriarcale. Ma a un certo punto avviene una cesura. Ecco, io vorrei spiegare anche nel corso, per quanto possibile in due ore, quello che è avvenuto. Questa cesura è stata causata dal mondo olimpico classico, il mito di Oreste che vedremo poi. Ma qui avviene una frattura tra noi, diciamo latino-italici, che continuiamo a essere matriarcali per molti secoli, e il mondo greco. Sostanzialmente i pelaggi, quando invadono l'Italia e si uniscono le popolazioni italiche, fanno un panteon femminile straordinariamente ricco, che purtroppo nessuno conosce e di cui non si sente quasi mai parlare. E io mi stupisco, perché poi venendo proprio dalle zone del Sannio, per me, voglio dire, io tutte le volte che arrivo in quelle zone sento conferenze su conferenze su questi argomenti. Quando torno qua in Piemonte non se ne parla mai. È per questo che ho centrato anche con entusiasmo di parlare di queste cose. Quello che io voglio proporre non è partire da Iside, madre, sposa, sorella di Osiride, maga, o che ne so, dai nanna dei Sumeri, o per arrivare a Ishtar. Però io vorrei soffermarmi su alcuni archetipi, come per esempio la dea dei serpenti minoica, siamo dal 1600 a.C., quindi siamo 3600 anni fa. Sulle tre maghe italiane di cui si parla, la maga Circe, per esempio, la Sibilla Pumana, un'altra per esempio completamente dimenticata è Angizia. Angizia è importantissima, è straordinariamente importante. Era la maga di tutte le popolazioni sannitiche, è osco sannite e osco sabelle. Quindi in una fascia che va dall'Umbria e arriva praticamente fino a Salerno, a Sorrento, quelle zone lì. Una fascia geografica veramente molto importante e molto estesa. Con la grecizzazione, diciamo, della parte nostra occidentale più latina, queste figure femminili scorrono in maniera sotterranea. Prima l'astrologa Zanier citava Ecapte ed in effetti Ecapte ritorna anche prepotentemente nel mondo romano, come se queste tre maghe ritornassero in qualche modo in age. E in particolare la tradizione magica riemerge di nuovo con l'ermetismo. Pensiamo intorno al secondo, terzo, quarto secolo alla telestica e quindi alla attivazione magica tolista. Insomma, alla fine, in ultimo, io poi concluderei con qualche esempio classico di archeologia, ma non roba alla Peter Colosimo che ti fa vedere delle cose strane e che ti dice che sono di UFO, roba varie. No, no, roba che è anche in Italia, ma che nessuno conosce. Non ho mai capito perché. Non so se c'è una sorta di boicottaggio contro il femminino sacro, non l'ho mai capito, non saprei. Però io mi limiterei a questo e intanto credo di aver presentato quello che io vorrei dire in quelle due ore. Perfetto. Allora, grazie Fabrizio. Esci dal layout individuale. Ok, allora adesso prima, facciamo così, prima della carrellata finale in cui facciamo Massimo, poi Claudio, poi Maurizio, vi faccio ancora sentire il contributo che abbiamo registrato con Alessandro Nardin e poi andiamo pam 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 giù dritti fino alla fine. Allora, il corso di Alessandro Nardin, che è l'insegnante di musicologia esoterica di Aretusa Academy, è su Il De Garda di Bingen, che è stata una delle pochissime compositrici donne della storia dell'Occidente, se guardiamo oltre l'inizio del Novecento, è l'unica compositrice donna del Medioevo Cattolico, del mondo cattolico in generale. Quindi vi lancio il video e sentite da lui quello di cui parleremo in questa lezione, che sarà la quarta lezione del 29 di marzo. Bene carissimi amici della libreria Aretusa, Igor, compagni di Correlazione, tutti quanti, vi ringrazio, mi scuso per non essere con voi in diretta stasera, ma come vedete sono un attimino fuori sede nella bellissima cornice di Presanone e stasera, mentre voi adesso mi state ascoltando, starò rientrando in un verificante treno affollatissimo in quel di Milano. Quindi anticipo un attimo la mia presentazione raccontandovi brevemente allora di che cosa avremo intenzione di parlare nel corso del nostro appuntamento speciale dedicato al femminino pubblico nelle sue diverse accezioni. Io mi occupo del corso di musicologia esoterica e di conseguenza abbiamo dovuto ragionare su quale personaggio incontrare, conoscerle e raccontare durante la nostra lezione. Il primo nome chiaramente che è venuto in mente sia a me che a Igor è proprio quello di Hildegard Bombingen, la mistica medievale che ha una vita intensissima oltre nell'ambito del sapere, nell'ambito della vita relazionale, diplomatica, nell'ambito degli studi, ha dedicato una grande parte della propria esistenza alla trascrizione di musiche che le sono giunte contemporaneamente alle visioni di cui fu protagonista e per le quali è universalmente conosciuta. Di conseguenza faremo un flash fondamentalmente nell'ambito del dettato musicale che può aver caratterizzato quello genere di musica, perché non dimentichiamo che il Degarde chiaramente si mette a confronto con una musica pre-artistica, una musica pre-artistica, pre-razionale, pre-personalizzata, in cui il ruolo del musicista non è che quello di tramite fra un mondo superiore sonorizzato, di suoni intraducibili in linguaggio umano e un mondo inferiore che invece ha quei suoni ambicili. Di conseguenza il Degarde è una delle poche autrici anche con una firma, con un'attribuzione riconoscibile, cioè si sa che quelle melodie sono sue e non di altre. Di conseguenza diciamo che la musica in questo caso fa da tramite verso le sfere superiori e quindi il femminino è, il femminino, il femminile, la donna in questo caso è tramite, al pari dell'uomo, per la narrazione di un quadro abbastanza coerente di perfezione, di perfezione spirituale, di misticismo e teologicamente anche fortemente orientato a un senso di tradizione ufficialmente riconosciuta. Ecco, parallelamente, più che parallelamente anche in modo completamente, a volte possiamo anche dire diametralmente opposto, ecco. Il femminino non è solo questo, non è solo un femminino subordinato a una visione teologica ben definita, non è solo un femminino dedicato alle religioni delle latte, soprattutto non è un femminino. Il femminino deve essere per sua natura, tre, contemporaneamente e post confessionale. Ecco, come inquadrare quest'altra definizione del femminino, cioè non più la Vergine Maria ma Maddalena, non più la Isile Solare ma la Isile Lunare, non più Eva ma l'Ivito, e quale figura potrebbe, in un certo senso, essercene rivelatrice? Ecco, per contrasto e per contrapposizione riguardo a Isile, narreremo qualcosa che la confronteremo con la mistica medievale a proposito di Emma Calvini. Il soprano Emma Calvini, cantante Emma Calvini, fu una protagonista indiscussa dell'inascimento occulto parigino, di fine ottocento, attorno all'euro, tutti i più grandi occultisti dell'epoca, grandi artisti, grandi interpreti della nascita esoterica, talmente differentemente delineata che occorre finalmente fare un po' di ordine. Ecco, magari ci proveremo, non ci riusciremo ma ci proveremo, perché attorno a Emma Calvini, almeno ci sono due figure di straordinarie importanti. Una è quella del famoso Abate Sonier, che con lei aveva assolutamente un qualche tipo di relazione, e l'altra è quella di Claude Debussy, il compositore esoterista per eccellenza che conobbe Emma Calvini e che comunque frequentò i suoi stessi ambienti. Quindi abbiamo un femminino proteso verso le sfere celesti e un femminino octonio che brama di tornare alla luce e di fare sentire la propria voce. A dare voce a entrambe queste declinazioni sono due donne straordinarie, ognuna per i suoi versi, assolutamente contrapposte oltre umano. Spero di vedervi abbondantemente presenti nel nostro incontro, ci racconteremo, ascolteremo, spero anche che ci si diverta. Intanto saluto tutti quanti e buona continuazione. Ciao! Eccomi, mi scuso, ci ho messo un attimino a capire come potevo togliere l'eco e il rimando. Allora, quindi io direi di passare la palla a Massimo Centini che terrà il secondo incontro, quindi secondo martedì. Vi ricordo che il corso è articolato in sette incontri con cadenza settimanali di due ore ciascuno. Partiamo l'otto marzo per ovvi motivi con Irene Zanier e poi andiamo avanti di martedì in martedì, una settimana a testa a parlare del femminino declinato all'interno della materia di specializzazione del singolo docente. Quindi la prima lezione la tiene Irene Zanier giorno 8, la seconda la terrà Massimo Centini e adesso ce ne parlerà, la terza Paolo Riberi, abbiamo visto il video, la quarta Alessandro Nardin e abbiamo visto il video, poi ci sarà Fabrizio Manticelli con la quinta, Claudio Marucchi con la sesta e Maurizio De Michelis-Scapin con la settima. Quindi passiamo la palla a Massimo Centini che adesso faccio diventare grande, grande, grande. Massimo che subito, proprio in quello stesso periodo in cui avrà la lezione che mi pare che sia il 15 e giorno 18, partirà anche con un corso articolato per Aretusa Academy sull'antropologia della religione. Sarà come al solito, sarà un corso classico che come al solito avrà quattro incontri da due ore ciascuno e quella stessa settimana sarà protagonista di un incontro sulle streghe, intitolato Streghe colpevoli o vittime, che adesso andiamo a presentare. Massimo ti faccio diventare grande e raccontaci la tua. Va bene. Allora, buonasera, grazie, sono contento di essere qui con voi. Dunque, noi cercheremo in due ore, due ore dura il corso, vero? Sì, sì. E in due ore raccontare che cosa è stata la caccia alle streghe non è certamente un compito semplice, neanche è facile dare a chi ascolta un'immagine per quanto possibile omogenea. Io farò una cosa di questo genere, sostanzialmente. Metterò in evidenza le date fondamentali e l'area geografica in cui si è sviluppata la caccia alle streghe. Dopodiché metterò in evidenza alcune chiavi di lettura del fenomeno caccia alle streghe, non stregoneria in sé, nel senso che è evidente che le streghe non volavano, è evidente che le streghe non si mutavano in animale, eccetera, eccetera. Ma cercherò di mettere in evidenza quegli aspetti che sono stati, e poi sono entrati nell'immaginario, sono stati un po' i cavalli di battaglia su quali sono state combattute queste donne, perché la caccia alle streghe è un fenomeno che ha coinvolto nel 90% dei casi delle donne. Donne che appartenevano a una classe sociale ben precisa, donne che avevano delle peculiarità comportamentali loro caratteriali di un certo tipo, ma soprattutto avevano delle anomalie, tra virgolette anomalie sociali che certamente andavano a cozzare contro quello che era il modus di vivere della gente del tempo e soprattutto quello che era un po' l'impostazione data da una visione sostanzialmente cristiana, e intendo cristiana non solo cattolica, ma anche protestante, in quanto i protestanti e cattolici hanno bisticciato su un sacco di cose, ma come repressione contro le streghe che sono stati abbastanza allineati, ma anche i laici. Io nella mia modesta ma lunga carriera di studio sulla stregoneria ho veramente letto tanti processi e devo dire questo, non riesco ad avere una visione centrata, come spesso si nota nella bibliografia, la bibliografia spesso è condizionata da scelte, ideologie che girano a seconda appunto del tipo dell'autore, della visione dell'autore, verso una demonizzazione del cattolicesimo, del cristianesimo, ma soprattutto del cattolicesimo, da un altro l'enfatizzazione di queste donne fino a rigettarle in visioni, in schizofreniche neointerpretazioni della wicca o di cose del genere. In realtà la caccia delle streghe è stata un'ottima occasione per sfruttare un capro ispiatorio sul quale caricare tutta una serie di problematiche sociali, culturali, non ultime, religiose, forse anche politiche, di natura diversa che vanno dal micro al macrocosmo sociale, vanno dalla piccola località dove la strega in qualche modo diventava il capro ispiatorio sul quale caricare la morte di un bambino piuttosto che l'afta di una mucca, piuttosto che uno sconvolgimento anche di maggiori dimensioni, quale un'epidemia o un terremoto. In una realtà più ampia la strega era quella che rappresentava l'elemento di disturbo in una comunità che voleva perseguire un modello di comportamento, di atteggiamento, di ideologia allineato contro il quale la strega in qualche modo cozzava. Cozzava per sua scelta, cozzava per suo modus vivendi. La strega o meglio le donne accusate di stregoneria in realtà avevano un'impostazione nella vita che andava fortemente in contrasto con quello che era il modello condiviso. Noi, da quello che sappiamo, sulla base delle fonti storiche, ripeto, su quello che noi conosciamo storicamente, non su quello che si sente raccontare. I documenti ci dicono sostanzialmente due o tre dati fondamentali. Le streghe erano donne che avevano un rapporto, per esempio, con l'altro sesso alternativo rispetto alla normalità, nel senso che vivevano moruxorio, erano donne che vivevano da sole, erano lesbiche, erano donne che praticavano attività che allora erano bollate come magia, ma in realtà erano donne che sapevano operare una sorta di protomedicina, erano donne che avevano un rapporto, un ruolo assolutamente quasi inutile dal punto di vista economico nella società, quindi erano facilmente demonizzabili, immarginabili. Poi vi sono le teorie che oggi, come dire, si sono un pochino più ammorbidite e sono riuscite ad entrare con una, non più a gamba tesa come ai tempi della Marrei, ma in modo un pochino più dolce nell'ambito della stereografia, cioè le streghe forse potevano essere espressione, ultima eco, di una sorta di religione precristiana, adesso la dico così in termini molto semplici, che cercava di mantenere viva una tradizione, cercava di mantenere viva una identità culturale. Questa è una tesi che io trovo particolarmente interessante, stimolante, anche se viene fuori in nuce dei documenti, ma non in modo dichiarato. ed era appunto stata suggerita dalla Marrei, ma la Marrei aveva fatto un po' di confusione anche metodologicamente, forse respirava ancora un po' della stereografia romantica, Michelet davanti a tutti come apripista e quindi la stregoneria come protofemminismo, eccetera. Lei ha aperto una porta, ma in realtà è stata immediatamente assalita dagli storici, in quanto la stregoneria era argomento della storia. In tempi più recenti, Carlo Green Ginsburg, negli anni Sessanta, con, secondo il mio modestissimo capolavoro, un capolavoro di metodologia, soprattutto, che i benandanti, ha aperto un'altra porta, ma con una visione decisamente più scientifica per molti aspetti e decisamente più documentata della Marrei, che ha ipotizzato questa possibilità che dietro alle accuse di stregoneria vi fossero anche, non solo, delle esperienze provenienti da tradizione pre-cristiana. Una tradizione pre-cristiana blindata dal cristianesimo, ma rientrata dalla finestra attraverso una sorta di manifestazione che potremmo definire semplicisticamente porcloristica. In questo si è mantenuta ed è un tema di grande interesse. Tenete conto che noi abbiamo una quantità di fonti, ma è un tot, non è tutto. Non abbiamo dei numeri precisi. Chi parla di milioni di steghe bruciate parla tanto così per fare scena, ma non ne abbiamo dei numeri. Abbiamo dei numeri, ma che non sono, sono relativi e poi cambiano da area a area. La stregoneria del Friuli, la stregoneria del Veneto, non è la stregoneria del Basso Piemonte, non è la stregoneria della Liguria. È vero, le accuse sono le stesse, ma cambiano i contesti, anche perché la stregoneria è un fenomeno sostanzialmente contadino. La caccia alle streghe si concentra in aree prevalentemente contadine. Fatto 100 il numero dei casi, 80 sono in area agropastorale. Il resto è più cittadino, ma sicuramente in misura minore. In tutto questo la donna che cos'è? La donna è sostanzialmente una vittima, ma anche una protagonista, nel senso che molte donne praticavano questi, chiamiamoli riti per capirci, con una certa coscienza. Erano consapevoli di fare delle cose. Forse non erano consapevoli che la divinità che loro in qualche modo consacravano e avevano di riferimento era stata interpretata dai giudici come il diavolo. Loro lo chiamavano in modo diverso. A questo aggiungiamo tutta una quantità di altri elementi che escono dalla gabbia della stregoneria in sé per entrare nell'ambito della giurisprudenza dell'epoca, specificatamente al processo inquisitorio, con tutto quello che comportava. E aggiungiamo ancora, questo sempre con dati alla mano, che molto spesso i laici furono peggio, soprattutto tra la fine del 500 e 600, peggio della Chiesa nel perseguire le streghe. Quindi è un contesto sconfinato, non basta un corso annuale sulla stregoneria, è meglio sempre prendere un pezzo o un processo o un'area eccetera. Io in due ore farò questa carrellata, poi non lo so visto che qui stiamo appunto chiacchierando simpaticamente, se è possibile magari faccio un PowerPoint e così metto subito in chiaro un po' di punti fermi. Assolutamente sì. Alcuni testi fondamentali. Va bene? Perfetto, allora torniamo alla visione di gruppo, esci dal legato individuale, eccoci qui. Quindi mandiamo in bomba subito Claudio Marucchi che ci racconterà del suo corso dedicato a divinità indiane un po' particolari. Andiamo direttamente a Gambatesa con Calici, Namasta e Durga e adesso Claudio ci racconterà bene. Claudio lo conoscete, non serve che dica nulla su di lui. È docente ormai affermatissimo come Anchirene di Aretusa Academy dagli albori, dal primissimo anno ha già tenuto, in Claudio cosa siamo? Quattro, cinque, sei corsi ormai su argomenti molto differenti da un corso sul rito, un corso sul mito della sensibilità simbolica, un corso sull'albero della vita, uno sull'albero della morte all'interno della cabala. Poi adesso stiamo anche ragionando su un nuovo corso da proporvi a fine primavera. Quindi passo la palla a lui che adesso vi racconta in dieci minuti al massimo, no meno, sette minuti al massimo questo corso e poi passiamo la palla a Maurizio per l'intervento finale. Ti faccio diventare grande 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 e ti passo la parola. Bene, grazie a tutti. Scusate la visione, non ho con me la telecamera solita quindi devo usufruire di quella del PC che è quello che è. Ho accettato con entusiasmo questa proposta da parte di Aretusa, l'argomento è accattivante e soprattutto come abbiamo potuto vedere già dalla diffusione dei primissimi movimenti di pubblicità. Abbiamo potuto già notare un'accensione, diciamo così, di un dibattito legato ovviamente alla presentazione da parte di cinque maschi su sei o sei maschi su sette che parlino di femminino. Io brevemente vorrei ricordare che chi parla da un punto di vista storico, musicale, architettonico, gnostico, norreno, si occupa di storia o si occupa di simbologia. Io nel mio caso per esempio mi occupo decisamente di archetipi. Credo che in questo caso sia superfluo quindi e ci si può risparmiare in un certo senso l'idea che è un po' banale perché sta diventando ormai una retorica l'idea che l'ennesimo maschio venga a parlare alle donne di come devono essere o sono le donne. Non è affatto così in questo caso, per fortuna penso che dal punto di vista delle persone che hanno occasione di seguire i lavori di Aretusa e questi corsi si sappia benissimo che la faccenda riguarda la competenza e le persone che appartengono al gruppo docenti di Aretusa sono innanzitutto persone competenti. È ovvio che se c'è un numero di persone sbilanciato nel genere maschile piuttosto che femminile questo è un limite, diciamo così, della nostra società in molti campi e sarebbe decisamente una forzatura quella di inserire delle persone solo per via del loro genere. Se avessimo visto qui inserire forzatamente altre due o tre persone di sesso femminile solo in quanto donne, beh, questo dal mio punto di vista sarebbe altamente offensivo per la donna, per il genere ovviamente. Quindi viva la competenza e la possibilità di approfondire tematiche che in questo caso, almeno per quello che mi riguarda, sono tematiche psicanalitiche o di archetipologia esoterica, oserei chiamarla in questo modo. Si tratta sì di analizzare tre figure divine nella proposta che porterò a voi della cultura tantrica. Alcuni di voi sanno che ho fatto questo tipo di studi all'università in ambito accademico e che mi sono laureato proprio su questo tipo di cultura, quella tantrica. Ho scelto tre figure un po' sulla scorta del titolo che Igor ha dato all'intera iniziativa, i volti ignorati. È vero che ora sono molto meno ignorati, ma al tempo e soprattutto in India queste divinità di cui parleremo sono considerate divinità scomode. Una addirittura Kali, che forse è la più nota delle tre, almeno da noi in occidente oggi, Kali non è presente nei testi sacri dell'antichità. Kali non è una dea della tradizione e appare solo menzionata nei testi a partire dal quinto, sesto secolo dopo Cristo, quindi estremamente tardi rispetto a tutto lo sviluppo delle vicende dell'orizzonte culturale indiano. Ed è una dea nata e inserita poi nel corpus e nel pantheon divino sulla scorta della spinta popolare, perché era una di quelle idee celebrate dal popolo in alcune zone e in alcuni scenari particolari a livello rituale. E questa spinta nata dal basso ha fatto sì che alla fine anche la dea Kali entrasse pienamente nel pantheon delle divinità femminili. Sono contento di poter parlare di un tema come questo, perché siamo in un'epoca in cui l'ombra, quindi allaccio un po' anche il discorso di Irene naturalmente e indirettamente al discorso di Centini, l'ombra è la nostra parte profonda e spesso ignorata appunto, è il volto ignorato della psiche collettiva e in ombra restano molte delle caratteristiche, diciamo anche delle energie, delle tensioni della psiche collettiva che tendono a manifestarsi in modi brutali, violenti, a volte anche sgradevoli. Siamo passati ora da la narrazione della pandemia alla narrazione della guerra, sono ormai fenomeni chiaramente globali, tutto ciò che accade oggi esiste immediatamente e contemporaneamente su tutto il pianeta. Quindi la psiche collettiva vede vibrare dalle profondità questi orizzonti oscuri che ricordano delle tematiche che trascinano con sé un certo carico di violenza. Noi cerchiamo di rigettare indietro tutto questo, siamo programmati per ricercare la sicurezza ed evitare le zone pericolose, però sappiamo anche di non poterlo fare ad oltranza, quindi a un certo punto un confronto con queste realtà, un confronto con la simbologia o l'archetipologia dell'ombra, diventa necessario, diventa uno step fondamentale soprattutto per avviare un dialogo che favorisca l'integrazione di queste parti per non rimanere continuamente scissi e quindi continuamente vittime della potenza di questi archetipi che di tanto in tanto nella storia come sappiamo si fanno sentire e si fanno sentire in modo non troppo dialogante appunto, cioè emergono in maniera esplosiva e noi la coscienza collettiva è costretta a subire l'intensità e la colorazione così cupa di questi archetipi e tutte le emozioni che trascinano. Quindi ci troviamo anche poi ad avere uno stato d'animo diciamo così generale molto precario che enfatizza gli aspetti dell'insicurezza dove domina la paura, il panico, il malessere, il disagio eccetera eccetera. Questo è uno dei motivi per cui approcciare divinità come cinnamasta, durga e kali può essere estremamente utile. Lo sguardo tantrico è uno sguardo polemico, è già una prospettiva altamente diversa ecco rispetto all'india classica e queste tre divinità rappresentano la guerra, un certo tipo di potenza sessuale legata alla morte e il sacrificio. In durga abbiamo la guerriera, in kali abbiamo il tempo e quindi l'aspetto mortifero e in cinnamasta, la decapitata, abbiamo il sacrificio inteso come elemento cruento, elemento di relazione con gli dèi ma violento. Passeremo in rassegna alcuni aspetti mitologici e alcuni aspetti rituali di queste tre divinità ma su un impianto che privilegi come tessitura diciamo così che faccia da sfondo che privilegi l'aspetto psicanalitico e quindi che abbia una possibilità di agganciarsi, di addentellarsi alla nostra contemporaneità e al tratto spazio-temporale che stiamo vivendo in questo complicato momento storico. Non voglio togliere altro tempo perché stiamo già stringendo quindi vi do appuntamento direttamente alla serata dedicata a Durga, Kali, cinnamasta, le oscure idee tantriche dal punto di vista simbolico e rituale. Buonasera a tutti. Grazie Claudio. Dicevo, passo la palla all'ultimo al volo a Maurizio che parlerà del suo corso e poi superata l'ora se ci sono delle domande. Allora io non vedo né commenti né domande. Alle volte StreamYard fa questi scherzi. Se c'è qualcuno di voi che non sta lavorando sul telefono tipo Irene mi pare che tu abbia il telefono spiccio. Sì, sì, non ci sono domande. Ok, ok, perfetto. Almeno capisco se è vero che non ci sono oppure no. Allora passo la palla a Maurizio, ultimi cinque minuti e poi nel caso dopo e poi io con Instagram mi organizzo. Maurizio, cinque minuti al volo. Eccoci qua. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Scusate, aspetta, vi faccio un attimino. Aspetta, per dire ancora una cosa su Maurizio, mercoledì comincia il suo corso sulle rune, se qualcuno di voi se lo fosse perso. Sono 12 settimane, da due ore a settimana in cui verrà analizzata una runa all'ora, proprio a legnate. Quindi se vi interessa è veramente un corso da seguire. Gli ripasso subito la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Sì, cercherò di essere più veloce. possibile perché abbiamo ampiamente sforato, effettivamente. Beh, intanto mi presento dicendo una cosa fondamentale. Io non vivo in Italia, vivo in Scandinavia. vedo una realtà sociale molto diversa da quella che vedevo in Italia. Una realtà sociale in cui fondamentalmente la parità dei sessi è una cosa quasi completamente presente. Ci sono pochissime situazioni dove nelle quali non c'è proprio una parità completa, ma in linea di massima le donne hanno lo stesso rispetto e le stesse possibilità che hanno gli uomini. Cioè vedo donne manovrare carelli elevatori o martelli pneumatici e contemporaneamente le vedo dirigere aziende ad alti livelli, anche le fondazioni bancarie. Basta anche solo vedere la conformazione dei parlamenti della Scandinavia e si capisce com'è la situazione. Questa cosa un pochino mi ha sconvolto, diciamo così, quando sono arrivato qui in Scandinavia perché non me l'aspettavo e quindi sono andato a investigare su come mai la situazione fosse così e ho visto che è proprio una caratteristica che risale al passato. Andando a leggere i testi antichi, per lo più islandesi, ma ci sono anche altri documenti provenienti dalle storie della Scandinavia per quanto non un gran numero, si vede un pantheon di divinità dove i maschi sono rappresentati tanto quanto le femmine. Secondo me è la nostra società moderna occidentale che effettivamente ha una visione più diretta verso il maschile ad aver sottolineato tanto le divinità maschili o Dino, Thor, Loki, penso anche solo ai film della Marvel. Di fatto esiste un gran numero di divinità femminili con molte funzioni diverse, importanti quanto quelle delle divinità maschili. Non solo, nei miti della creazione del mondo, secondo gli antichi norreni, entrano sempre in ballo le figure dei giganti. I giganti rappresentano delle forze della natura non controllate e non controllabili. Ma i giganti sono tanto maschi quanto femmine e sono chiamati con i loro nomi. Ora, io ho una formazione accademica di tipo linguistico per cui ho trovato molto interessante anche andare a scoprire il significato di questi nomi, riferendosi all'antico norreno, ovviamente. Si nota che genericamente parlando, in maniera molto generalizzata, i giganti di sesso maschile sono delle forze più di carattere distruttivo, quelli di sesso femminile invece sono delle forze più di carattere creativo. Altre figure interessanti possono essere quelle delle Valkyrie, che noi conosciamo per la mitologia di Wagner, del ciclo del loro del Reno, o per molta fantasy o fantascienza, chiamiamola come vogliamo, degli ultimi decenni, ma che in realtà sono delle figure di carattere iniziatico, nell'epica, perché si ritrovano prettamente nell'epica. Quindi vediamo che esiste nel mondo norreno anche una serie di processi di crescita dell'uomo e della donna, che vengono amministrati tramite dei miti che si rifanno a delle divinità, e scopriamo che le divinità femminili sono molto più presenti nella loro funzione di iniziatrice di quelle maschili. in questo senso troviamo l'alta faccia della medaglia nel mondo materiale, nella vita quotidiana di queste popolazioni nordiche antiche, perché la sostanza magica per eccellenza nei processi iniziatici anticonordici è la bevanda sacra, l'idromele o la birra. Storicamente è stato dimostrato che la produzione di questa bevanda era affidata fondamentalmente alle donne. Nel mondo pagano, neopagano, odierno, di fatto quando si compiono i rituali in cui si prevede l'utilizzo e il consumo di una bevanda, che può essere mele, birra, zucco di mela, qualunque tipo di bevanda, normalmente è una sacerdotessa a presentarla a tutti i presenti. E quindi vediamo che queste figure divine si riflettono tanto adesso quanto in passato nel mondo poi degli umani. E quindi questi sono fondamentalmente gli argomenti che vorrò esporre nell'incontro che mi è stato affidato, considerando poi anche alcune figure particolari, tipo quella della veggente o altre figure di carattere iniziatico di tipo femminile. Adesso non mento troppo nel dettaglio perché il tempo è finito, quindi vi saluto, vi ringrazio, buonasera. Igor attiva il microfono. Grazie, intanto a me è venuta l'idea di come fottere l'algoritmo di Instagram e metterlo anche se abbiamo sforato, comunque che adesso si può. Quindi, allora, se ci fosse qualcuno che ha delle domande è il momento di farle, oppure se qualcuno vedesse poi il video successivamente le può fare per iscritto all'interno dei commenti, tanto noi rispondiamo, discutiamo, ci interroghiamo, ci confrontiamo e tutto quanto. E boh, io sono molto contento di questa serata come è venuta. Sì, 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 sì. I corsi, dicevamo, partono l'8 di marzo con Irene e poi con cadenza settimanale saranno sette settimane con sette docenti differenti, un docente per ogni settimana. Quindi partirei nell'8 di marzo, la settimana dopo c'è Massimo Centini che ci parlerà appunto di streghe, l'abbiamo appena sentito, che faccio un recap generale. La settimana dopo ci sarà Paolo Riberi che ci parlerà di Maria Maddalena, settimana dopo ancora Alessandro Nardini che ci parlerà di Degarda di Bingen, poi entra Fabrizio Manticelli che ci parlerà di Magna Mater, Claudio Marucchi che fa l'infilata su Cali Durga e Cinnamasta e poi in chiusura Maurizio De Michelis-Scapin che abbiamo appena sentito, che ci parlerà delle figure femminili all'interno del mito della tradizione esoterica scandinava. Se non ci sono domande, non sono ancora state poste, io vi auguro la buonanotte, visto che sono le 10.20, torno dalla mia bimba sotto che sta riguardando Geronimo Stilton e pretende la mia presenza. Domani, primo di marzo, la libreria sarà chiusa e poi ci vediamo mercoledì con orario regolare dalle 11 alle 18, come sempre dal martedì a sabato. Vedo che non ci sono domande, quindi libero tutti, lascio andare tutti quanti alle loro faccende o a dormire e ci sentiamo, un abbraccio a tutti quanti, ci sentiamo, ci scriviamo, mandate mail, messaggi piccioni, quello che serve e a presto. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti, ciao.